Vietato sbagliare e il cartellone affisso a caratteri cubitali sullo spogliatoio dello stadio San Nicola in vista di Bari Suttiro, la partita che vale una stagione in calendario alle 20 e 30 di venerdì 2 giugno. Che dire compagni avranno 90 minuti più recupero per provare ad avere ragione di un avversario che ha chiuso al sesto posto la regular season, tre gradini più in basso della squadra di Michele Mignani. Una vittoria con qualsiasi risultato varrebbe il pass per la finale. La ricetta per provare ad arrivare in fondo la offre Simone Simeri, 29 gol in tre stagioni e mezzo in bianco rosso. Quando tu giochi che c'è il doppio risultato non giochi mai come magari ha potuto giocare il Suttirolo, perché loro una partita su due la devono vincere per passare. Quindi hanno giocato secondo me con più fame, con più consapevolezza dei loro mezzi nel dire o vinciamo o ora non vinciamo più, perché comunque sanno delle difficoltà che potranno trovare a San Nicola. Quindi il Bari perdendo questa partita secondo me farà una grande partita venerdì, perché se venivano da uno 0-0, sapendo di poter fare un altro 0-0 e passare, diciamo che comunque ti mette quella cosa di non voler spingere a tutti i colpi. Invece ora loro sono conflitti a spingere, l'hanno dimostrato che quando spingo sono una squadra forte, perché arrivare tessi in campionato del genere vuol dire di aver dimostrato le proprie qualità. A raccontare la complessità dell'esame che attende il Bari ci sono le statistiche inanellate sin qui dal team Alto Atesino. 16 partite su 37 della gestione Bisoli, chiuse senza gol al passivo, 8 vittorie per 1-0, ultima quella di lunedì sera al Druso e appena 4 rimonte incassate. Una è maturata proprio al San Nicola il 12 novembre, passando da 0-2 a 2-2, precedente di cui tenere conto anche se sono trascorsi sette mesi. In quell'occasione non c'era Michael Foloruncio, grande incognita della semifinale di ritorno. Mercoledì il numero 90 si è allenato con il gruppo e potrebbe far parte dei titolari nella notte che vale un'intera annata.